un elisir di lunga vita e anche di giovinezza si fa per dire libertà divertimento e spensieratezza e vita a me mi ha dato la vita io in bicicletta sogno viaggio in compagnia da solo ma sogno mi ha dato soprattutto io sono un ex 95 kg adesso 70 fate voi bellissimo pedalate gente pedalate la mountain bike è un'esperienza di libertà è un modo per stare tutti uniti e divertirci un momento per stare assieme fa sentire bene mi fa sentire veramente viva mi fa capire il valore dell'amicizia stare insieme agli altri trascorrere delle belle giornate in mezzo alla natura e con tanti tanti amici un divertimento uno svago un modo per stare insieme ovviamente libertà trovare proprio quello che è la natura il senso di libertà divertimento e avventura e esplorazione per me è uno stile di vita è una bicicletta condurata infatti libertà mi piace che scarico stress la divertimento lo consiglio a tutti ai giovani e ai meno giovani monta bike per noi o dire divertimento amicizia la natura sport modi tutto di quello che noi abbracciamo nel nostro circuito divertimento stare con gli amici tenersi in forma per me è un modo per divertirsi per stare insieme in compagnia con gli altri esplorazione divertimento fare sport e stare amici uno sport per stare tutti insieme è un'esperienza bellissima mi piace tanto è un antistress ti permette di uscire fuori dalla vita dalla routine giornaliera ed apprezzare le bellezze della natura bellissima un benessere naturale mi fa sentire viva per me tutto è giro intorno alla bicicletta una passione una cosa per dire a passaggi di di mento a bombanza vai 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 per la monta e vai